Bitcoin ci prova a breccare questo livello di resistenza dei 30.000, si porta sopra i 29, poi riscende e poi risale, poi riscende e poi risale. Non ci riesce molto bene, ma c'è un indicatore, ragazzi, che ci dà un'indicazione di medio-lungo periodo che avviene proprio questa settimana. Questo è un indicatore che diverse volte ha dato un segnale molto preciso, un segnale bullish sì, però con una pausa di breve periodo, cioè un momento di pausa. Ha indicato quasi sempre una zona di topping e oggi andiamo a vedere proprio questo indicatore che in questa settimana sta dando il suo segnale. Un segnale molto importante perché ci dà due informazioni che possono sembrare a prima vista contrapposte, cioè il fatto che il mercato, in questo caso Bitcoin, possa essere vicino a un massimo relativo di periodo, ma dall'altra parte ci indica anche una conferma, cioè l'inizio di una nuova fase molto pronunciata, molto importante, che potrebbe poi sfociare appunto nei prossimi mesi. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e bentornato io anche, insomma, ragazzi. Sono rientrato per qualche giorno perché sono di nuovo in ripartenza, ma sono un po' qui posto, diciamo, mesetto passato a Tenerife. È molto bella la zona, è veramente, veramente un clima splendido. Mi è piaciuto tantissimo questo viaggio, ragazzi, perché mi ha fatto conoscere anche tutta l'isola, insomma, ho girato tantissimo. Ho conosciuto anche alcuni di voi che mi seguono da un po' di tempo, alcuni amici dell'Academy che mi hanno fatto a Cicerone, che ringrazio, insomma, ringrazio Michele. Ciao Michele, ovviamente perché mi ha accompagnato moltissimo in questo viaggio, mi ha aiutato, mi ha fatto fare un po' di giri, abbiamo fatto cose veramente splendide. E' sempre bello un po' girare, ragazzi, e sono sicuro che ritornerò anche a visitare anche le altre isole delle Canarie, che sono state veramente magnifiche. Io adoro il mare, adoro il sole. Vabbè, detto questo, passiamo un po' alla questione grafica. Due grafici che andremo a vedere oggi, ragazzi, questo e poi un grafico spread, perché entrambi ci danno un'indicazione molto importante. L'altro spread è quello con lo standard impulse 500, quindi anche lo switch tra fase risk on e risk off. Ragazzi, allora, intanto vi do la botta subito con la questione legata all'indicatore. Allora, l'indicatore è strutturabile, in questo caso, ragazzi, sul grafico settimanale ed è creato da due medie mobili semplici. Sapete bene che io non uso indicatori molto complessi. Qui nel canale YouTube, ovviamente in Academy, ho degli indicatori molto più complessi, ragazzi, che utilizziamo su base della volatilità, che è il mio indicatore preferito. Quindi se qualcuno di voi vuole andare ad approfondire qual è l'indicatore preferito da Mauro, è un indicatore statistico, non parlo di indicatori di trading, la volatilità, ragazzi. Io adoro la volatilità, ho fatto studio rettingenti su questo indicatore che credo sia il più importante di tutti nell'ambito del trading, ma non come viene spiegato nei bloghettini che trovate con le informazioni gratuiti, ragazzi. Ovviamente non servono a niente quelle cose, però un'inferiratura ve la danno, quindi andate a leggerle anche lì. Invece, per chi di voi ha studi statistici, lo studio statistico della volatilità è il number one. Allora, per quanto riguarda questi indicatori, sono due medie mobili, ragazzi, però. Sono due medie mobili settate da un punto di vista ciclico. Cosa significa? Significa che una rappresenta il ciclo semestrale di Bitcoin, l'altra rappresenta il ciclo annuale di Bitcoin. Se le mettiamo insieme, ci danno un'indicazione, ragazzi, in base a un concetto molto semplice. La media mobile di suo non è un indicatore operativo, è un indicatore di trend. È stato utilizzato come un indicatore operativo da chi non ha capito come funziona questo indicatore. Lo possiamo utilizzare a livello operativo, ma sarà sempre in ritardo, ragazzi, per la sua struttura matematica. Qualsiasi cosa voi andiate a fare con le medie mobili, modificando periodo, aggiungendo cose, sbagliate sempre perché la media è costruita per essere un indicatore latente, cioè in ritardo. Non si può cambiare la sua natura. Quindi se tentate di cambiare la sua natura, state facendo un ragionamento un po' statistico che poi non porterà alcun beneficio, ragazzi. Utilizzate le cose giuste come vanno utilizzate. Però in questo caso la latenza delle due medie mobili che andiamo a vedere oggi ci dà un'indicazione molto importante, perché queste due medie da un lato ci indicano il livello di lungo periodo, ma come vi dicevo anche dall'altro, indicano una possibile fase di topping. Andiamo a capire perché. L'incrocio della media mobile, che vedete la blu in questo caso, l'azzurrina, sulla media mobile un po' rosa, che è la media mobile annuale, produce l'indicazione che il mercato, quindi Bitcoin in questo caso, è vicino o può essere vicino a una fase temporale di topping relativo. Cosa significa il topping relativo? Una fase di massimo relativo, massimo di un determinato periodo, non massimo di una bullrun, ragazzi. Massimo di un periodo temporale, che di solito è abbastanza importante, cioè dura qualche mese. Questo intendo quando dico abbastanza importante. Questo è il segnale di medio periodo che ci dà questo indicatore. Poi c'è quello di lungo, che andiamo a vedere un po' insieme. Allora, questa settimana la media mobile del ciclo semestrale sta andando in break della media mobile del ciclo annuale. Questa cosa ci dà questa indicazione di inversione definitiva, ma ormai eravamo già consapevoli di questo, della questione del bear market dello scorso anno, del 2022. Quindi questo dato conferma definitivamente la fine della struttura del bear market. È una cosa che però non ci serve a nulla, come vi dicevo, a livello operativo lo sapevamo già. Quindi non era una informazione rilevante. Però è un'ulteriore informazione, diciamo, una conferma. Senonché però, ragazzi, nelle fasi successive, nelle settimane, poche settimane successive, all'incrocio di queste due medie, da un punto di vista di medio periodo, il mercato tende a fare un'area di topping. Esistono, diciamo, due caratteristiche. Adesso ve le spiego. Allora, quest'area di topping è momentanea e prelude a una fase di correzione che andrebbe poi a consolidare questo nuovo trend che le medie vanno a mostrarci. In sostanza, per gli amanti dei termini tecnici, avviene una sorta di mean reverting, cioè una inversione del mercato intorno alla media a sei mesi. Cioè il mercato va di nuovo a girarsi per avvicinarsi alla media mobile a sei mesi. Media mobile a sei mesi che è l'azzurrina, che ovviamente nel corso delle prossime settimane vedrete comunque continuare a salire. Quindi questo mercato potrebbe fare un impulso finale e poi una fase di correzione di qualche settimana, qualche mese eventuale, per avvicinarsi alla sua media mobile. Questo atteggiamento è naturale, è un atteggiamento che forse nel lungo periodo è anche auspicabile, ma nel medio breve periodo comunque, ragazzi, indica una fase di massimo possibile. Per Bitcoin quindi è una fase di topping e va gestita, perché le fasi di topping di Bitcoin, ragazzi, o siete abituati alla sua volatricità, ma magari poi fa meno 30 nell'arco di un mese e insomma qualcuno può rimanere scottato. Allora, questi video sono informativi per farvi capire quello che sono delle ipotesi che sono successe in passato. Non sono ovviamente dei video di predizione del futuro, ragazzi, ma allo stesso tempo vi mettono un po' la pulce nell'orecchio e vi fanno ragionare anche sulla vostra parte psicologica. Attraverso queste informazioni potete riuscire a gestire meglio quelli che sono le vostre posizioni essendo consapevoli di quello che sta magari accadendo. Speriamo che magari non accada niente, vada a diritto, ma di solito il mercato non va, diciamo, in linea retta verso nuovi massimi. Attenzione, allora, quindi, questa è la spiegazione di questo incrocio da un punto di vista di medio, poi vi dico quella di lungo tra un po'. Quali sono i due valori che convalidano questo incrocio? Devono esserci due fasi che ci dicono che questo avvento, cioè un possibile topping relativo, può avvenire o sta per avvenire. Uno è la fase temporale, cioè deve essere passato un tot di tempo dal precedente minimo che è avvenuto a chiusura del ciclo annuale. Questi tipi di incroci avvengono solo alla ripartenza dei cicli annuali. Il secondo punto è l'estensione, ragazzi, di prezzo, cioè il prezzo deve essere molto distante dalla media mobile a sei mesi, in questo caso. Molto distante vuol dire che deve appare un eccesso di rialzo. Eccesso di rialzo che in questo contesto Bitcoin non ha del tutto fatto, quindi potremmo essere appunto nell'ottica di avere l'ultimo impulso, quello che stiamo un po' cercando. Vi faccio vedere la precedente fase, quella della crisi, per esempio, del bear market del 2018. Allora, quando è avvenuto l'incrocio della media a sei con la media a dodici periodi? Vedete, è arrivato in concomitanza, in pratica, ragazzi, con la zona di massimo. Ora qui voi mi state dicendo che c'era il massimo precedente. Sì, ragazzi, però in questi contesti è meglio utilizzare, vedete, le close, perché intanto stiamo parlando di medio periodo, quindi magari utilizzare proprio le shadow ci può stare, ci mancherebbe, però magari la close è più significativa. Quello di cui io parlo sempre, però ragazzi, non è proprio un punto, ma è un'area di topping, perché mi piace ragionare in questo modo. L'area di topping di Bitcoin del 2019 è avvenuta esattamente in questa zona. Vedete la barra che ha creato la congestione, da cui poi è partita la correzione, che, attenzione, si era fermata sulla media di struttura del ciclo annuale. Questo annullatelo, perché questo è la pandemia, ragazzi, quindi, presumibilmente, diciamo, non dovrebbe avvenire nel prossimo anno. Vabbè, diciamo così, cosa ci volevo dire? Faccio un gesto apotropaico, ma chiudo la visione. Vabbè, allora, detto questo, ragazzi, in questa zona abbiamo avuto una fase di massimo, che inizia proprio, vedete, dall'incrocio della media a sei mesi con quella annuale. Quando la media a sei mesi incrocia all'annuale, Bitcoin inizia a stentare, crea la sua zona di massimo, che se guardiamo le close, appunto, avviene nella giornata del 5 di agosto, nella settimana, scusate, del 5 di agosto 2019. Quando, poi questa cosa avviene, ragazzi, quando vedete la distanza dalle medie, quella annuale e quella a sei mesi, è molto ampia. In termini di percentuali, possiamo andarla a calcolare utilizzando il range di prezzo, se ci mettiamo più o meno qui, abbiamo una distanza dell'80%, quindi l'estensione, la distanza dei prezzi dalla sua media è molto alta. Questo significa che il mercato è molto esteso. Molto esteso indica anche, ragazzi, che è salito troppo velocemente e ha raggiunto prezzi troppo alti, quindi c'è un eccesso, un ipercomprato in termini tecnici. Andiamo a vedere la questione di questa fase, ragazzi. Allora, qui stiamo dicendo che nell'ambito delle prossime settimane, da questa zona in poi, più o meno, settimana prossima, Bitcoin potrebbe creare una fase di topping proprio in questa fase qui. Quindi abbiamo da maggio a fine giugno, quindi in questi due mesi, in questa zona centrale, possiamo avere una fase di topping e questo lo desumiamo appunto da quello che vi dicevo. Andiamo a vedere però se è avvenuta anche la questione dell'estensione. Qui come estensione, ragazzi, non ci siamo. Vedete che abbiamo un 33%, quindi il mercato è stato poco esteso rispetto alle sue medie e questo significa che, è vero, è in leggero ipercomprato, ma non è in un ipercomprato importante. Questo dato ci servirà perché dovremmo tirar fuori dal cappello anche una zona di possibile massimo che più o meno l'avevamo già indicata. Andiamo a vedere anche la questione però legata al tempo, ragazzi. Allora, il tempo più o meno dal minimo precedente è nell'arco della più o meno 200 giorni, quindi a livello temporale 200-220 giorni. Se andiamo a constatare questa cosa, vedete che in questa zona siamo ancora un po' lenti, ragazzi, cioè il bull market piccolino, quello che è avvenuto da novembre, che è pur sempre consistente, ma comunque è piccolo, è ancora dietro a livello temporale, quindi teoricamente dobbiamo ancora entrare nella fase dei 200 giorni. Quindi abbiamo un segnale che ci dice che tra un po' si potrebbe verificare un massimo relativo, ma i due parametri che vi dicevo che ancora non sono ben oliati, cioè il mercato non ha ancora speso tutti i suoi giorni al rialzo, quelli proprio impulsivi, mancano ancora 30-40 giorni e non è esteso in maniera corretta. Quindi presumibilmente potremmo dire che le prossime, faccio lo zoom naturale, che le prossime fasi di eventuale estensione del mercato, se il mercato dovesse fare un boom di volatilità, forse, forse, forse potrebbero creare una zona di massimo, se avvengono tra maggio e giugno. Questa è la domanda. Allora, rivedete questa parte 37 volte, così magari capite, e che non vi dite, ma non ho capito, avevi detto, ok, no, rivedete questa parte 37 volte, fate reguai, 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 poi mi canto una canzone di vaso. Va bene, allora, detto questa zona qui, ragazzi, andiamo a comprendere una questione legata all'eventuale sviluppo. Intanto dobbiamo spostare la struttura della volatilità, dobbiamo spostare un pochino, perché ovviamente qui poi le medie continueranno a salire. Se noi ipotizziamo una volatilità magari dell'80% è un po' eccessiva, però la volatilità dell'80% spingerebbe Bitcoin intorno ai 42.000 dollari di target, quindi se dovesse verificarsi la stessa cosa che è avvenuta nel 2019. Io non sono di questa idea, perché i mercati nell'arco degli ultimi anni, soprattutto Bitcoin, sono mutati in termini di estensione di volatilità e sono sempre più ridotti, sempre più ridotti, questo è normale. Poi questo è un contesto anche macroeconomico dove abbiamo una notevole differenza rispetto al 2019, i tassi non sono a zero, sono altissimi, quindi questo vuol dire tanto, ragazzi. Immaginate che nei prossimi anni potremo assistere a una fase di ribasso dei tassi di interesse della Fed, magari fra uno o due anni, e in quel caso vedremo anche le reazioni di un mercato delle cripto a quella fase, ragazzi. Qui noi siamo stati in una fase di politica restrittiva la più forte degli ultimi vent'anni. Bitcoin ha retto, ragazzi. Io ve lo ripeto e ve lo ribadisco. Poi vediamo cosa succede appunto nel lungo periodo se avviene una fase di taglio dei tassi di interesse. Però, ragazzi, immaginarsi in questo contesto una volatilità identica al 2019 da un punto di vista statistico, secondo me, non è corretto. Io mi immaginerei una volatilità ridotta di almeno un 30%, e quindi, insomma, tranciata di circa una trentina di punti rispetto all'80, 26, 24, 25 punti in meno, quindi io mi metto intorno a 2,55. Ragazzi, il target, secondo questo modello che sta indicando una struttura di estensione, una struttura temporale, ci porta a un pricing intorno ai 35. Quindi Bitcoin, se ripete alla lettera quello che ha fatto nel 2019, che era stata una forte campana impulsiva, ragazzi, e lo fa entro il prossimo mese, quindi maggio-giugno, può raggiungere anche questo livello di target, ma in quel caso sappiamo che potrebbe essere un massimo temporale, un massimo relativo di qualche mese, perché poi, ragazzi, vedete, da un punto di vista di struttura, poi iniziano solitamente le fasi correttive di min reverting, come vi avevo spiegato. Vi faccio vedere anche nei capitoli precedenti la stessa identica cosa negli anni precedenti, per esempio nel 2015, vedete, qui è avvenuta una fase di topping, in questo caso vedete che la struttura di topping non è estesa come la precedente, anche per questo io ho molte titubanze, però vedete che comunque la fase di bassista c'è stata, che in questo caso non si è sviluppato con un vero trend, trend totalmente al ribasso, ma è avvenuto un ribasso, e poi una barra di congestione che è durata praticamente un anno, ragazzi, ok? A livello temporale, vedete, queste cosettine poi durano un anno. Va bene, questo è il discorso. Andiamo a vedere anche nei precedenti, ovviamente qui non abbiamo dati, ma presumibilmente anche nella zona del 2012 circa dovrebbe essere stata questa l'aria, vedete? Quindi questo l'atteggiamento di bitcoin, anche qui, un leggero ribasso e poi un laterale rialzista. Qui siamo molto più maturi, io prenderò molto più in considerazione questa, vi ripeto, non credo a un ribasso di questo tipo, questo è fuori luogo secondo me, ma una estensione, un'entità di questo ribasso, magari non è steso così, perché come non estendiamo il rialzo, non dovremmo estendere anche il ribasso, ci potrebbe stare appunto a chiudere la struttura ciclica. Però a questo punto chiediamoci l'ultima domanda, l'ultima fase. Cosa significa invece per il lungo, ragazzi? Significa nel lungo periodo che bitcoin è entrato in una nuova fase, cioè una nuova epoca di natura quadriennale, quindi il nuovo ciclo dell'adding. Alcuni di voi mi chiedono, Mauro, ma è possibile che bitcoin possa ancora decrescere, possa essere, andare sotto i minimi? È possibile solo ed esclusivamente se questo ciclo annuale diventa ribassista, il che renderebbe probabilmente l'intero ciclo dell'albing ribassista, ragazzi. Questo significa una catastrofe da un punto di vista cripto, è l'unica volta che avviene una cosa del genere. Quindi il touch di prezzi sotto i 15.000 in una fase del genere sarebbero accettabili forse per altri 3-4 mesi, ma comunque renderebbero la struttura veramente pericolosa, veramente un disastro. Secondo me un mercato che fa una cosa del genere si resetta. Io ve lo dico in maniera molto chiara, quindi un nuovo minimo di bitcoin da qui la vedo più come un reset del settore delle cripto, piuttosto che una cosa accettabile da un punto di vista tecnico. perché anche questo indicatore delle due medie ci porta proprio a questa conclusione. Dall'incrocio della media a 6 mesi con quella annuale parte una nuova faz del ciclo dell'albing. Al di là di queste oscillazioni che vedete dovevano essere così se non ci fosse stato la pandemia, ragazzi, vedete qui io tra l'altro avevo indicato il nuovo annuale iniziato qui, me lo ricordo bene, poi ha fatto questa struttura, quindi lingua di Bayer, però poi ha confermato. Ma siamo stati in pericolo perché qui avevamo anche l'ipotesi che l'annuale fosse negativo. Qualcuno di voi che mi segua da tantissimo tempo se lo ricorda. Stessa cosa in questo contesto, ragazzi. Break, incrocio delle medie, poi qui, vabbè, è stata la più grande burrana pulita, diciamo, di bitcoin, sempre sopra le due medie. Attenzione che adesso queste due medie, ragazzi, vi dicono anche un'informazione molto importante. stiamo in un bull, ancora piccolo, ancora breve, ma queste due medie teoricamente dovrebbero sempre tenere, perciò se continuano a tenere il prezzo e il mercato, ok, fa il reverting di qualche mese, però poi da lì c'è un vaide tip. Va bene, ragazzi? Allora, detto questo, vi mostro l'ultimo grafico, pensavo che questo video venisse un po' più corto, ma non è così, lo vediamo poi con calma, ma l'ultimo grafico è questo qui, ragazzi, il grafico trade-off che vi avevo promesso SP500 verso Bitcoin, questo grafico molto rilevante, ragazzi, ci dà una informazione, e una fase, questa fase che vedete al ribasso è stato tutto il bull di Bitcoin, il mini bull market di Bitcoin, perché questo è l'SP diviso Bitcoin, perciò in questo caso vi dice il prezzo di SP500 rispetto a Bitcoin, cioè prezzato in Bitcoin, guardate il collasso totale, cioè praticamente scende sempre, ciò significa che se noi abbiamo Bitcoin rispetto ad SP500 come future, come indice, quindi tutte le azioni di SP500 abbiamo solo guadagnato in pratica in termini di forza relativa, ciò significa che questo mercato scende sempre rispetto a Bitcoin, no? Espresso in termini di Bitcoin, però ha dei cicli, ragazzi, e questi cicli ci danno un'informazione molto molto valida. Se andiamo a fare infatti riferimento all'ultima struttura, ci rendiamo conto che in 560 giorni dall'inizio di questa struttura ciclica che è un ciclo del genere è il ciclo del, diciamo, del quadriennale, però, della fase recessiva, diciamo così, verso fase spazio. Un po' come se li dovete ragionare in termini di risk off, risk on, cioè praticamente protezione e poi rischio. Ok? Facciamola così. Quindi questo è un ciclo che riguarda quell'analisi, ragazzi, l'analisi se dobbiamo essere difensivi o espansivi. Quindi inizia con una fase di forte rialzo, quindi difensivi. Quando scende diventa di natura risk on. Allora, qui vedete che anche questo grafico ci dice che è una frase eventuale di bottom che in questo caso ci dice basta con il risk on andiamo a difenderci, vedete, poi la fase di alzista dovrebbe avvenire a breve. È ovvio che sia così perché è uno speculare rispetto all'andamento di quello che avete visto qui di Bitcoin. Però, anche in questo caso riusciamo ad avere un'informazione in più. e ci dice proprio questa attenzione che siamo vicini a una possibile strutturazione di una fase di minimo che corrisponde a una fase di topping di Bitcoin. Poi da qui può partire magari un rimbalzo ma nel lungo periodo è questo quello che vi sto dicendo ragazzi. Se Bitcoin brecca invece quelle due medie cambia tutta la questione lo fa per la prima volta nella sua vita e andremo a fare ovviamente un aggiornamento. Per oggi è tutto buon weekend e noi ci rivediamo lunedì. Ciao raga!